Ok, allora stasera vediamo le partite dall'ultimo turno pandane che si sono giocate ieri sera. C'era Italia, Regno Unito. Vediamo un po'. Quindi la prima partita è Mattias contro Alex Kent, terza d'anno. Mattias era bianco. Quindi vediamo cosa hanno fatto. Qua, cosecchio molto tranquillo. E poi bianco pinza, abbastanza naturale, ne lo esce. Il bianco, sa d2 è un po' insolita però è molto territoriale. Per prendere l'angolo. A volte si fa anche d3 che è più solida. Ma questa lascia la possibilità di connettersi con S2 anche se è un po' fragile come connessione però. Quindi ci sono prove e contro. Il bianco è abbastanza semplice per il nero. Poteva fare cose più attive come una contropinza magari. Questo in forma solida. E questo bianco è abbastanza naturale perché in questa posizione non ho paura di rovinarsi large perché tanto la pippa dall'altro lato non si fa niente. Giocare in e5 quindi abbastanza non ci sono svantagli. E poi prende altro territorio. Questa è più grande di quanto sia in questa mossa perché a parte prendere territorio. Ma se bianco avesse fatto qualcosa più normantico a stendere qua per stabilizzare quella pietra. Se il nero può giocare per prima a sinistra questa non solo fa territorio per il nero ma unisce anche i due gruppi nero. E risolve un sacco di problemi. Perché con la pietra in nera erano fluttuanti mentre così dietro parte di un muoio. E quindi cambia molto la situazione su come considerare quel gruppo. Quando un bianco gioca qua nero non ha un buon modo di connettersi. Connetterli sui gruppi. E quindi direi che bianco è non solo fare punti con sto mossa ma anche attaccare il pietra. E nero contraattacco ovviamente perché non avrebbe senso semplicemente saltare di nuovo verso il centro. E lasciare che bianco giochi anche l3. A partire da nero sarebbe troppo semplice per bianco se può stabilizzare tutto il suo gruppo. Quindi questo è naturale. Il bianco gioca qui e fa fono. E poi qui nero minaccia di entrare ma anche di connettersi. Tipo se bianco gioca qui nero può un po' connettersi esattamente ma quasi con questo. Non è proprio una commissione al 100% perché è difficile da tagliare per bianco. E quindi motivo per cui il bianco invece risponde così. Che è una forma un po' strana. Però l'idea è la stessa di prima. Principalmente per evitare che nero commetta i suoi gruppi. Questo è un sacrificio per creare aghi. Forse è un po' prematuro perché non lo so. Poteva anche aspettare nero perché questo solidifica anche il tentativo di bianco. Ma il punto è perché voleva giocare questa che in effetti è un po' troppo stretta probabilmente. Poteva fare anche cose più semplici. Non c'era bisogno di cercare per forza di connettersi. Tipo potrebbe semplicemente andare in un'altra direzione. Così chiaramente bianco adesso deve tagliare. Non ha senso fare nient'altro. Quindi bianco taglia. E questa mossa probabilmente nero ce l'ho in mente già da quando ha giocato c6. Perché adesso è essente. Il fatto che abbia tolto la libertà. Adesso bianco deve rispondere altrimenti con b6. Quindi prima la Tari e poi bianco di femmina. E adesso infatti nero non c'ha un gran che di forma. Perché soprattutto aver subito questa Tari con il G8. E' rinunito la forma adesso. Come fa a uscire? C'è un solo modo per uscire. Che è ovviamente dalla Tari. E scappare di qua. Ma questa non è una gran forma perché. Come vedete. Queste pietre di nero hanno poca libertà. E non aiuto molto a fare punti. Non sono lì solo per tagliare ma. E' una forma un po' fragile. In più anche al centro non è ancora. Sicuro perché c'è ancora la possibilità di scappare. Qua. Che al momento è forse un po' prematuro. Perché se bianco scappa nero. Ovviamente ci accerebbe semplicemente così. Che vuol dire che le pietre bianche in basso sono quasi morte. Non 100% morte. Perché c'è ancora agi con F2. E queste però. Nero è anche diventato più solido così. Quindi non è che abbia molto senso il bianco. Giocare così. Soprattutto perché bianco c'è ancora un problema. Da risolvere al centro. Quindi. E' un po' prematuro. Infatti tornando indietro in partita. Bianco semplicemente prima. Gioca per stabilire queste. E poi gioca a tagliare dall'altra parte. Con l'idea. Infatti. Vuole salvare quello pietro. Giocare da entrambi i lati. Andiamo a catturare per. Togliersi il pensiero. Prima che diventi un problema. Però vedete che il nero sta diventando pesante. L'intero gruppo nero. Questa è un po' fragile come forma. Questo doppio crema. E sembra che ci sia. Che il nero possa fare qualcosa. Ma in realtà. Non c'è un modo diretto di poter tagliare. Soprattutto perché. Nero deve stare attento con le sue due pietre in basso. Che non hanno tante libertà. Infatti. Probabilmente la cosa migliore per nero era. Non toccare l'agi. E semplicemente rispondere. Tipo così. In modo che una volta rinforzato. Magari diventa possibile tagliare. In qualche modo. Non lasciare che sia bianco a pensare a come sopra il suo problema. In partita. E in partita ne ha giocato qua. L5 non sarebbe molto diversa. Sarebbe più o meno la stessa cosa. Perché il problema è che. Nero taglia. E adesso bianco connette. E nero non ha il tempo di continuare con il taglio. Perché non ha il problema. Se stende qua. Bianco semplicemente taglia. E cattola due pietre in basso. Per questo dicevo. Nero prima di poter tagliare. Deve rinforzarsi con il basso. Così è prematuro. E infatti in partita. Ha difeso qua. Però vuol dire che. M5 è diventato un regalo. Non ha. Ha semplicemente aiutato bianco a fare forma. Era meglio non giocare in mente piuttosto. Ok. Il combattimento continua. Nero stabilizza un po' la forma. Anche se c'è ancora qualche buco. Soprattutto con questo. Bianco potrebbe giocare anche K9. Ma lo farà breve infatti. Ecco qua. E infatti vedete che il nero. È riuscito a scappare in qualche modo. Ma finora non ha nemmeno un occhio. Quindi. Continua ad essere pesante. Mentre il bianco. Ha una forma un po' più stabile. Perché ha un occhio sicuro. E può fare facilmente il secondo. Ok. Quindi il problema in bianco. Infatti in questo momento. Sono queste pietre in alto. Che sono più stabili. Ok. E poi bianco invade qua. Che. Il problema che si era creato. Era una mossa a cui bianco puntava già fin da quando aveva giocato C8. E. E. Dà fastidio. Soprattutto il fatto che nonostante nero abbia. Giocato queste due pietre. Non aiutano per niente a difendere contro questa invasione. Come dite. Non cambia assolutamente niente. Che ci sono queste due pietre. Quindi. Per quello che è un po' così. Questa sequenza di nero. Non è stata. Un bel risultato. Nero risponde così. Che è un po' strano. Ha avuto più senso. Semplicemente lascia connettere bianco. E poi scappare. Ci sembra stato un combattimento al centro. Ma. Con il fatto che. Bianco pure è ancora instabile. Sembra. Sembra fattibile. Il problema di quella. La mossa che ha fatto. È che. Il problema di quella. La mossa che ha fatto. È che. Bianco cattura una pietra. Sì. Va bene. Il nero non ha. Per me la base. E soprattutto. Rispetto alla sequenza di prima. C'è una forma che ha i buchi. Mentre prima almeno. Ha una forma solida. Soprattutto quando il bianco spinge qua. Adesso ci sono un sacco di tè. Quindi. Una volta che. Bianco ha tolto la base a questo gruppo. La partita. Sta iniziando a diventare favore. La bianco. Perché adesso nero ha. Un gruppo pesante qui in mezzo. Il gruppo di bianco. Che doveva essere deboli invece. È diventato un gruppo che attacca. Quindi si è ribaltato un po' la situazione. E però subito dopo. Ci abbiamo. Un. Grave errore. Perché qui. Bianco probabilmente ha letto male qualcosa. Qua la mossa da fare. La mossa da fare era. Doveva connettersi in vita qua. Il punto è che a prima vista. Sembra non essere necessario. Perché. Vedete. Se anche nero taglia. Bianco si connette dall'altra parte. Sono miei. Giusto? È probabilmente la stessa cosa che ha pensato bianco. Perché. Nero taglia. E bianco si connette. Ma si connette veramente? Cosa può fare nero qua? Esatto. C'è il tesugi. Perché il nero non blocca in b9. Ma taglia in b11. Il bianco non ha abbastanza libertà. Perché. C'è la mossa da la tale. Muore. Sicilmente. E può catturare due pietre. Non serve a niente perché. Qua non ho occhi. E non c'è nemmeno. Nemmeno il tuo perché qua c'è la tale. Quindi non può nemmeno connettersi in prima ni. E quindi. E quindi la partita. All'introfiso. Ricambio di nuovo. Perché il nero cattura queste vietre bianche. E quindi. Non ha più il problema. Che ha parlato di avere un gruppo di guai. Adesso. Non so. È diventato un gruppo vivo. Vivo. Quindi la partita ritorna. Equilibrate così. Nel successo è niente. E ok. Quindi il bianco dice. Vabbè. Riprendeva. Il combattimento di qua. Questa. È una mostra per vedere un po'. Che debolezza il nero lascia. Il nero interessantemente. Ignora totalmente. E semplicemente va a giocare di qua. Però questo creerà. Lascia un sacco di problemi. Perché è una forma incompleta lì. È vero che le tre pietre. Adesso a questo punto puoi dire. Non sono così importanti. Ma non è tanto quelle tre pietre. Più per. Per avere almeno un occhio da quelle parti. E quello è il problema. Essenzialmente. Così. Non c'è. Non cassa niente. E quindi. Quando più hanno tesugi. Bianco sacrifica una pietra. L'idea è tagliare. E adesso probabilmente vedete già dove. Il prossimo tesuglio. Vediamo perché ha tagliato lì. C'è una sua mossa prossima. Che è. Nob wedge. Qui adesso nero. Ha qualche problema. A dove rispondere a questa mossa. Perché. Normalmente. Sembrerebbe. Potrebbe semplicemente. Dallatare. Bianco connette. E poi difendere. Il taglio. Ma. C'è un problema. Lo vedete. Lascio pensare un attimo. Esatto. Funziona il taglio. Incredibilmente. Perché nero non può catturare questa pietra. E vedete come. Aver ignorato. M11 prima. Crea quest'agi. Sono miei. Le due cose. Quindi bianco connesso. E nero è morto. E quindi questo sarebbe game uova. Quindi nero non può giocare così. E quindi deve tagliare dall'altra parte. Il problema è che. Arrivati qua. Adesso nero dovrebbe. Giocare per uno scambio. Dovrebbe tagliare. Da quest'altra parte. Bianco. Cattura qui. E nero cattura qui. Qui almeno salva il suo gruppo. Però chiaramente questo è un buon risultato per bianco. Perché catturare quelle tre pietre al centro. È enorme. E non so. Dopo aver catturato quella. Nero c'è ancora dei buchi in una forma. Quindi. Può continuare a guadagnare bianco. Ok. In partita però è stato ancora peggio. Perché in partita nero salva le tre pietre. Ma. Bianco semplicemente con niente. E la cosa incredibile è che. Nero è tagliato adesso. Così com'è. Perché non ha nessun modo di catturare queste due pietre. Non importa cosa gioca. Non può. Ci sono troppi. Troppi tagli. E infatti vedete. Tutto questo è. Dovuto al fatto che nero ha. Ignorato M11 prima. Di nuovo con la mossa. Crea un sacco di animi. Infatti. Nero gioca così. Ma non funziona. Ok. Semplicemente. Poi attare. Poi attare. E poi catturare due pietre. E quindi. Così la partita è finita. Perché. Una volta che bianco è connesso qui. L'intero gruppo nero a sinistra. Ha solo mezzo occhio al momento. Nero non ha modo di fare il secondo. E quindi è game mode. Hanno continuato a giocare per un po'. Vediamo che. Nero non ha modo di fare due occhi. Gioca qua. Atari. E adesso anche qui c'è un mezzo occhio. Ma non c'è modo di fare il secondo. Bianco con questa. Toglie il secondo occhio. No. Vedete. Sono miei. F2 e 4. Praticamente. Per questo è sempre. Quindi nero a fare F2. E quindi. Robano. Quindi. Che è stata una partita. Interessante. Con un po' di alti e bassi. Bianco era andato in. In vantaggio. Poi ha fatto. Un brutto ruolo a sinistra. Mi ha presciuto di catturare con le pietre. E riprendono la partita. E poi però. Nero ha fatto un errore ancora più grosso. Facendo il scattore. Non trompo. Ma l'intera sequenza. Dal doppio ane. Fino al taglio al centro. Era molto interessante. Bianco ha veramente sfruttato. Tutto l'agi che c'era in quella. In quella zona. Grazie a quel termini su M11. E quindi. Prima partita finita. E prima vittoria. E allora passiamo alla seconda partita. La seconda partita è quella di Alessandro Pace. Che giocava contro John Diamond. Terzo d'animo. E Pace era il M11 assoluto. Ok. Qua Fuseki invece. Un po' insolito. In versione. In Sansan immediata. Che in realtà ho visto. Ma anche un po' di moda tra le Aire. Adesso ogni tanto la giocano. Quindi. Può essere che sia il Nuo a Mita. Bianco sceglie la variante più semplice di Giseki. Ma così. Forse Fuseki è un po' troppo semplice per il Nero. Che abbiamo appena iniziato. E ne ha già preso tre angoli. Non so se fosse scelto il Bianco. Infatti Bianco piuttosto che prende l'ultimo angolo. Inizia subito a cercare il fracquesino. Nero invece risponde solido. E poi inizia. Questa è una mossa. Forse un po' troppo aggissima. Non so. Sembra un po' prematura. Soprattutto visto che c'è un angolo vuoto. Sembra più normale andare subito a giocare là. Nero vuoto. E' un po' lo stile di Aire. Inizia subito i combattimenti. Quindi ci sta. Poi Bianco risponde anche in maniera abbastanza passiva qua. Probabilmente era meglio. Sarebbe stato meglio tagliare. Tipo così. Questo sarebbe stato. Il combattimento è più complicato ma. Sembra possibile. Perché Nero ha anche un problema con P3. Quindi non può. Non può ottenere tutto. Mentre così. Una volta che Nero torna indietro e si connette. Nero non ha nessun problema. Il Bianco è stato tagliato. E quindi c'è un gruppo a destra che non ha una base. E c'è già una pinza a rompere la scatola. E poi c'è L3 che è troppo lontana dal muro. E una volta che adesso Nero è forte qua. Può invadere a sinistra. E fare casino anche lì. Quindi è già immediatamente diventata una posizione. Che è relativamente semplice per Nero da giocare. E' difficile fare bianco. Perché è solo bianco da avere problemi. Nero non ha nessun problema. Qua anche questa è una mossa molto aggressiva. Cercando di circondare tutte. Chiaramente quando bianco esce. Nero taglia. E qui taglia direttamente. E qui inizia il combattimento decisivo. Della partita praticamente. Perché adesso nel prossimo passo sono tutte forzate. Bianco chiaramente deve tagliare. Il problema è che bianco non ha modo di catturare queste due pietre nere. E se non ha modo di catturare queste due pietre nere. Deve trovare il modo di vivere all'interno. O scappare. E scappare non sembra possibile. Quindi deve trovare il modo di vivere. Questa minaccia la scala. E adesso che qui c'è il classico tesugi per catturare la pietra di taglio. Ma in realtà è semplicemente così. Quindi in qualche modo bianco è scappato. Anche se con una forma non proprio ideale. Non ha ancora occhi. Il problema è che adesso nero può attaccare da quest'altra direzione. Perché adesso bianco può fare il bambù. Ma quando nero circonda tutto. Bianco ha qualche problema. In realtà c'è un modo di vivere con questo gruppo. E forse il primo tesugi è riuscito anche a vederlo. Perché c'è una sola mosse in questo momento che salva bianco. Lo vedete? No, 2 no. Il tesugi è quasi. C4 forse prematuro. Perché nero alla scala. No, il tesugi è P2. Questo se avete studiato i libri di tesugi forse non è troppo difficile. Perché se il nero taglia l'idea è che il bianco gioca qua e il nero non possa ballare. Per due pietre. Perché così è il nero che muore. Quindi dovrebbe fare così. E il bianco che trova il nero di taglia. E quindi in partita bianco e il nero ha connettato dall'altra parte. Ma allora bianco dovrebbe giocare l'altra spinta. E qui se il nero insiste adesso bianco con questa ha una forma già quasi. Una volta che bianco gioca qua bianco è praticamente vivo. Localmente non è vivo ha bisogno di giocare M2 ma finché c'è il taglio ancora in H2 nero non può uccidere. Quindi in questo momento bianco è vivo. In più nero adesso deve fare due occhi con l'angolo. Perché se non gioca bianco può ridurre la noelle e quindi è morto. Ok? Quindi questo sarebbe stato un risultato abbastanza normale. Diciamo sembra andata così probabilmente nero gioco cose qua per forzare bianco a via e poi la partita continua. Ok? Questo sarebbe il risultato diciamo equo ma probabilmente leggermente favorevole al nero. In partita invece bianco ha giocato direttamente qua ma questo che sembra quasi la stessa cosa ma non lo è perché adesso è nero a giocare qua che è un triangolo vuoto ma in questo caso fa un'enorme differenza perché vedete rispetto alla sequenza di prima nero guadagna un sacco di libertà extra e quindi adesso può permettersi di giocare un seminale e adesso non risponde più in Q2 ma risponde aggressivamente togliendo gli occhi e infatti vediamo come va a finire il seminale qui e qui questa sembra una mossa normale in realtà vien fuori che è un un leggero errore perché adesso bianco ha qualche speranza solo che è molto difficile vedere e infatti l'ho scoperto soltanto quando l'ho analizzata con le AI qui nero avrebbe dovuto semplicemente connettere solido e il motivo è che il punto vitale in tutto questo seme AI è S2 è necessario per nero giocare qua per ridurre la libertà di bianco e in partita invece è bianco che avrebbe il center e potrebbe giocare proprio qua e questo fa differenza nella seme AI con questa bianco si sarebbe potuto salvare in realtà in partita nessuno di due l'ha visto e qui hanno giocato da quest'altra parte e adesso cosa può fare bianco bianco gioca qui e vedete che il che mi piace fare due occhi e nero non può giocare uno direttamente che salve indietro la libertà perché bianco vede il gioco può giocare qui aspetta ah no giusto ho giocato a 6-5 ma è svegliata con questa dovrebbe se non sbaglio diventare secchi giusto perché gioca qua perché adesso così nero non può giocare nero adesso non può giocare t1 perché si metterebbe salve all'ultima libertà quindi dovrebbe scontrettarsi di fare l'occhio così diventa secchi ok e quindi in partita nero invece di togliere gli occhi gioca qui e qui è l'ultima chance per bianco perché qui adesso bianco si deve rendere conto che non può vicesse mai quindi la cosa migliore può fare è fare due occhi e anche nero fa due occhi anzi in realtà è un ordine corretto di giocare prima qua che minaccia la connessione che è una mossa molto importante perché mettere questa mossa in center rovina gli occhi di quest'altro bianco e quindi se il risultato va così la partita sarebbe continuata ma è un risultato buono per il nero perché questa r7 mi fa la differenza il fatto di aver tolto gli occhi a questo gruppo bianco cambia molto nel combattimento successivo e notate che invece il gruppo nero a sinistra è totalmente al sicuro perché il bianco non può tagliare non c'è la scala e ha troppo poca libertà per tagliare l'versario ok e invece in partita bianco cattura ma adesso questo non è più come il semeare di prima perché quando ne lo togli gli occhi adesso è nero ad essere avanti di una libertà e qui bianco abbandona ma si vede facile se adesso continuate a semeare perché questo è a tarda e poi l'ultima libertà nero vinci ok quindi in questa partita è finita molto in fretta la strategia di essere molto aggressiva ha pagato e sì il bianco ha fatto un paio di errori probabilmente di fine è però decisivo perché questo tipo di situazioni basta una boss sbagliata e finisce subito in tragedia quindi siamo 2-0 per l'Italia fin qua e noi andiamo alla terza partita ok la terza partita era Carlo Metta contro Descan anche lui terzo da in Metta era bianco questa è una pinza che abbiamo visto già altre volte giocare a Carlo penso sia diventata la sua nuova pinza preferita infatti ha giocato se non sbaglio lo stesso gioseki che avevamo visto anche la volta scorsa o una variante simile al mio perché fin qui è praticamente lo stesso di stato l'altra volta perché qui c'è un questo tesuji per nero per per salvare le sue pietre e c'è una sola mossa per bianco adesso per per ottenere un buon risultato no perché mi sembra che ne avevo già parlato l'altra volta scorsa il punto di questo tesuji è che prende andare nell'angolo o uscire fuori se il bianco difende l'angolo non può saltare e infatti c'è una sola mossa per bianco che protegge non incambo le cose che è un po' difficile a vedere se non avete studiato questa posizione quindi che è giocare esatto il triangolo vuoto perché è importante per bianco qui togliere una libertà non basta semplicemente bloccare la strada con b13 non sarebbe abbastanza ok e quindi come finisce il semiale qui sono tutte mosso forzate ovviamente cos'è 7 e arrivati a questo punto com'è questo semiale totalmente può diventare si chi o ko secondo di come gioco nero può semplicemente spingere qua con l'idea che se se bianco da Atari non resista a qualcuno quindi se bianco dipende qua nero lo gioca qui e dopo la Atari questo diventa secchi ok quindi nero può fare un secchi in gote in questa situazione ma non so se non l'ha vista o ho pensato fosse troppo piccolo ha deciso di giocare al centro ok che vuol dire che bianco con un altro mosso può può vivere uccidere tutto ma non è tanto tanto al massimo nero può fare secchi quindi è solo fine gioco non può veramente catturare il bianco quindi è un fine gioco grande però in ogni caso continuano di qua il bianco prende un altro angolo e poi il nero gioca qui cercando di attaccare le pietre al centro probabilmente il problema è che hanno tante libertà quelle pietre e il gruppo nero a sinistra non è tanto quindi se ne hai non è un buon sono molte speranze per il nero il nero dovrebbe prima fare il secchi e poi iniziare qualcosa del genere senza avere la stabilità del gruppo nell'angolo è un po' prematura e qui bianco semplicemente esce mi lo taglia ma ha una forma un po' fragile per fare queste cose ne? così ho fatto uno spisma bianco semplicemente con questa cattura tutto e semplifica un po' la forma e ok il nostro sensibilmente cambiamo strategia puntando tutto sul fare un enorme muoio a destra bianco bianco questo è tipico di carlo e questa è grande non solo perché toglie tutto l'agile nell'angolo altrimenti c'erano interessanti bianco passa c'è questa mossa che dà molto fastidio questo è un classico dove adesso bianco non ha due occhi e probabilmente al momento non funziona perché c'è ancora spazio bianco può uscire tagliare un po' difficile uccidere però non è bello e quindi giocare qua subito toglie tutti questi problemi e non solo crea anche qualche difetto nel muoio a nero perché adesso adesso indietro la clamp per come gli osi più o anche io lo blocca solido ma questa adesso non ha bianco difende adesso totalmente vivo non c'è nessun agi e nero come vedete invece ha ancora un po' di tagli e probabilmente di aver pensato che semplicemente difendere i tagli sarebbe stato troppo lento e non avrebbe tutto molto quindi semplicemente prendere un altro punto grande e adesso è interessante la scelta che fa Carlo qua che questa è enorme chiaramente visto che il nero poteva catturare questa pietra e perché il punto è una volta messo in movimento qui bianco semplicemente chiaramente sta rinforzando il il muoio di nero e quindi bisogna veramente aver contato bene essere sicuri che non si sta dando troppi punti all'avversario prima di giocare una cosa del genere perché se questa cosa sbaglia ci si infine una posizione in cui siamo indietro poi è difficile recuperare perché questa in un certo senso avvicina il fine gioco ma fa arrivare il fine gioco più in fretta sta già facendo il pieno territorio nero ok però l'idea è che anche bianco sa in qualche modo facendo un muoio a sinistra anche se per il momento è un po' troppo largo quindi non è paragonabile a quello che sta facendo nero adesso soprattutto perché meno può mettersi in moto qua ma finché il bianco attacca e anche questa sequenza ha la stessa idea di prima il bianco spinge sta facendo fare un sacco di territorio in realtà come vedremo tutte queste tutti questi ane per il nero non solo nel massimo perché lasciano dietro un sacco di tagli soprattutto anche l12 che è natale e c'è un sacco di agli quindi non è ancora del tutto sicuro questo territorio infatti vedete che il nero qui cambia l'idea va dritto proprio per non lasciare ancora altri tagli il nero che invece sistema la sua forma ok andiamo a prendere l'ultimo punto grande il bianco è un sacco ok quindi un po' arriviamo al momento decisivo di questa partita quando quando il bianco gioca a questa clamp e all'improvviso la domanda diventa questa clamp funziona o no? e la domanda è che si funziona perché il nero ha mille e mille tagli al centro e quindi non può sperare di tenere tutto però la sequenza dopo questa clamp è molto lunga per niente banale e infatti il nero all'inizio non ci crede e decide di tagliare ma questo è probabilmente l'errore decisivo a questa partita perché una volta che il bianco taglia il resto è tutto forzato il nero deve giocare così per catturare questa è la tagli taglia anche al centro e poi il bianco taglia da quest'altra parte ok e fin qui è tutto forzato adesso qual è il tesuji per vincere la partita vediamo se riuscite a vederlo qui è un posizionamento veramente interessante probabilmente c'è più di un modo di iniziare ma la mossa decisiva è 1 ok prima il taglio e poi questo è il tesuji decisivo e qui la partita praticamente game over con questa mossa perché adesso non importa cosa fa il nero qualcosa salta no per esempio in partita in partita nero ha giocato solido semplicemente catturare un'altra pietra ma se avesse resistito giocando anche qui per esempio cosa può fare bianco se avesse giocato così bianco avrebbe dato tare dall'altra parte e poi tare ancora e poi vedete tare doppio tare e questo è il game over chiaramente esatto quindi nero non può fare queste cose perché ci sono troppi atari sostanzialmente e quindi per questo ha deciso di giocare così però anche questo crea altri problemi perché adesso bianco è semplicemente data al icon poi data al icon e poi data al icon e sono tutte mossa forzata e poi questo un altro tesuji e qui adesso chiaramente se non ne ho cattura bianco fa uno squeeze e muore tutto quindi l'unica mossa che ha senso è uscire fuori anche se sembra terribile e adesso bianco viene rafforzato qui la mossa importante è non dare atari e fare che sembra a prima vista naturale per completare lo squeeze ma in questo caso è una brutta mossa che è dovuta atari poi che fai ok può giocare qui ma adesso non funziona più perché ne ho pochina il bianco ha solo due libertà e ne ho tre ok quindi così ruminerebbe tutto infatti il tesuji in partita è semplicemente giocare qua perché adesso bianco ha tre libertà perché le tre pietre queste altre in basso non sono importate sono queste tre pietre che sono importate ok e così il bianco può catturare un pezzo e chiaramente questa è una riduzione enorme del territorio nero l'intero moneo è stato ridotto in più 20-30 punti e quindi dopo questo praticamente la partita è finita perché ne ho investito tutto il fosechi a creare questo moneo enorme una volta che scompare non c'è più spazio per recuperare altri punti tutte le posizioni di bianco sono solidissime e quindi non c'è modo di recuperare i punti da altre parti infatti poi non so arrivato a questo punto dal punto di vista di fine del gioco la mossa più grande era fare il seichi nell'angolo perché ormai è grande il fatto che nero non l'abbia fatta non fa pensare che non l'abbia visto proprio sul sito perché altrimenti non si spiega le altre mosse non sono paragonabili infatti andando più avanti che nero fa un po' di mosse il bianco risponde anche per sicurezza ma probabilmente poteva anche ignorare qualcuno perché sono andato avanti parecchio alla fine il bianco è a giocare per primo una volta che gioca qua nero è anche morto in un angle bianco è avanti più di 15 punti quindi non c'è più veramente sole e sono arrivati anche a contare insieme sono arrivati finalmente fino alla fine nero non l'abbiamo abbandonato alla fine bianco ha vinto di 16 punti e mezzo ma si è deciso tutto con quella sequenza con cui bianco ha ridotto il muoio non lo so qua il risultato ha segnato 16 punti ma si può essere fosse più allora non l'ho visto in ogni caso allora sono un thread che dice qua la stima di KGS a stima di KGS non capisce che l'angolo è morto vediamo un po' questo è morto questo 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 16 e mezzo ok e quindi siamo a 3-0 il risultato è già ottenuto non manca l'ultima partita l'ultima partita che ho giocato io contro Jamie Taylor due dan e io ero mio qua fusecchi un po' la gestina poi pinza e qua stiamo per iniziando il giusecchi che abbiamo visto tante volte dove bianco giocarebbe 15 e poi ci sono tanti che si aggiano in agolo ma qua bianco dice è una variante semplice dove semplicemente esce ma questo semplifica un po' la partita che nero adesso può catturare e chiaramente la posizione è molto più facile da giocare qua senza casino questa è una bella mossa che chiaramente bianco adesso vuole mettere pressione con la pietra nero ma fare una pinza sì sì questo è comunque giusecchi fin qua la partita appare una pinza in terza linea non funzionerebbe tanto bene perché nero potrebbe semplicemente come per esempio nero semplicemente esce bianco si troverebbe come un gruppo senza base quindi non ha molto senso quindi l'idea è di pressare nero e fare un muro qua quindi quando nero taglia qui ci sono un po' di modi in cui bianco potrebbe giocare ma penso il mondo migliore fosse semplicemente per Atari e qui nero ha una scelta potrebbe semplicemente giocare safe e catturare la pietra ma è un po' forse un po' troppo semplice perché fa lascia che bianco solidifichi altrimenti può andare qui e combattere questo sarebbe più complicato ma fattibile perché siccome c'è G15 che è center bisogna c'è il taglio nero può combattere il Tessuji in realtà per giocare al Tessuji iniziai da qua e non giocare G15 fino a che non è veramente necessario perché altrimenti nero si toglie la libertà e qui ci sono un po' di variazioni dopo questa ma diciamo l'idea è che bianco non può sia scappare che catturare nero facciamo le cose diciamo probabilmente il risultato onesso è qualcosa di genere il bianco cattura questa e nero scappa e questo sarebbe una partita ancora giocabile in partita invece il bianco semplicemente estende senza dare la taglia ma questo in questa posizione non funziona tanto bene perché nero da la taglia e di solito in questa posizione bianco vorrebbe estendere e se bianco estende qui cosa succede che la mostra semplice sarebbe semplicemente giocare H18 ma questo non è risultato migliore per nero in questo caso bianco può fare lo squeeze e forzare da entrambi i lati ok è un po' simile al risultato di prima nero si rinforza ma anche bianco in più rispetto a prima bianco ha anche avuto questa taglia in più extra quindi è un piccolo plus per bianco c'è un piccolo plus per nero perché ha catturato due pietre invece che una quindi probabilmente è ancora eco ma in realtà nero ha una mossa più forte qui perché nero può bloccare dall'altra direzione e qui bisogna leggere un attimo perché di solito è necessaria una scala per far funzionare questa cosa perché quando nero stende c'è una scala di me probabilmente conoscete questo è il sugi perché bianco può giocare qui se adesso non gioco qui bianco ha una scala e questo serve un disastro per il nero chiaramente e il punto è che il nero ha molto sugi perché il nero può giocare qua prima e questo blocca la scala perché se adesso bianco risponde nero può tornare indietro a catturare le tre pietre e se bianco non risponde cattura di qua e questo anche se entrambi catturano due pietre ma sembra un risultato migliore per il nero perché il nero ha più influenza qui e il più bianco ha ancora il gruppo a destra a cui pensare che deve andare a fare due occhi quindi mentre il gruppo nero è già via ok in partita però bianco non è giocato così bianco ha dato semplicemente a Tari e così la posizione si semplifica però vedete che rispetto alle sequenze di prima dove otteniamo un risultato simile che bianco si rinforza è anche nero questa forma è più efficiente per il nero perché non c'è stato lo scambio che forza ha una pietra inefficiente nero ha esattamente le pietre che gli servono nessuna di più un po' il mucchi e basta e quindi è probabilmente il risultato leggermente migliore per il nero in più il nero finisce in centro qui qui è un punto grande ok qui potevo anche scegliere la variante joseki semplice ma uno non assuma paura di fare i coltelli volanti e due i coltelli volanti in questa posizione non è un buon risultato per bianco perché l'idea di questo joseki per bianco è nella nella maggior parte delle sequenze questo joseki finisce con bianco che fa un muro da queste parti in questa direzione in questa partita non è un risultato interessante per bianco perché c'è già nero da questa parte ok questo joseki di solito bianco lo fa quando ha lui delle pietre in quell'angolo ma se c'è il nero quel muro rischia di non essere molto efficace soprattutto poi in una posizione dove il nero ha anche il ponnuki quindi ancora più forte che del normale ok quindi iniziamo solito joseki fin qui è joseki poi bianco qui dovrebbe giocare f5 e poi ci sono un po' di variazione come abbiamo parlato in passato è uno dei joseki più complicati quindi non è il caso di andarlo a vedere adesso e però bianco qui fa una mossa che non è joseki almeno non in questo tipo di posizione perché bianco gioca qua ma questa mossa è possibile soltanto se bianco ha la scala e chi ha la scala qua riuscite a vedere perché tu l'hai già vista la partita e quindi meno taglia e poi taglia di nuovo e questa inizia la scala riuscite a vedere dove finisce la scala se il bianco esce questa taglia e poi c'è la scala di qua ed è non banale da vedere perché bisogna arrivare a fare in fondo perché arrivati qui sembrerebbe che se il bianco gioca la scala normalmente bianco si connette ma nello può andare dall'altra parte e continuerà la scala di qua e adesso è chiaro che bianco muore quindi la scala funziona e quindi bianco non poteva scegliere questa variata quindi è un errore abbastanza grave perché arrivato a questo punto il bianco può fare bianco e catturare qua nero cattura e questo è un altro che promucia questo è un guscio di tartaruga ed è chiaramente un ottimo risultato per nero per nero anche perché il bianco ha due gruppi una di cui uno è chiuso in seconda linea ecco bravo infatti quindi puoi arrivare a due anni non c'è bisogno di conoscere la scala facile ok forse mi sono rilassato un attimo visto che il risultato era migliore perché semplicemente è andato a prendere il punto più grande rimasto che probabilmente basta e avanza ma in realtà la mostra giusta era continuare a insistere perché bianco qui non è ancora vivo quindi questo è il set e l'avrebbe circondato totalmente più da un lago così sarebbe stato più chiaro che nero e avanti qua ma in ogni caso probabilmente era una piccolezza il fatto che comunque abbia il set per prendere l'ultimo punto grande gli dà un un vantaggio abbastanza chiaro e qui stavolta bianco cambia idea non gioco i pugnani volanti ma è una variante più semplice e nero qui è costretto a giocare i ponnuki e quindi otteniamo quest'altro joseki ma questa posizione non è male soprattutto perché i ponnuki nero funziona bene con la posizione che c'era in alto quindi adesso nero ha più potenziale per fare un muoio qua di nuovo probabilmente nero avrebbe dovuto giocare f2 in sente per per chiudere all'angolo ma ho probabilmente giocato senza pensare qua semplicemente puntando a fare il muoio soprattutto che qui stavo pensando piuttosto a chi in futuro col fatto che c'è l'aging in p2 nero può invadere facilmente con m3 e quindi in realtà questa k4 di bianco sembra un'estensione un po' troppo lontana dal muoio e quindi p8 aiuta non solo a espandere il muoio di nero ma anche più avanti quando bianco vorrà quando nero vorrà invadere il bianco in basso ok poi il bianco gioca qua che non cambia molto lo stato della cosa anzi crea qualche problema all'altro gruppo in realtà perché una volta che nero scende qui poi non ha chiaramente due occhi questo gruppo bianco e sarà un problema più avanti e questo è il motivo per cui nero avrebbe dovuto giocare f2 prima perché adesso con questa bianco esce e non fa più il tempo a tagliare bianco quindi qua ha perso qualcosina ma in ogni caso c'è l'altro gruppo bianco che non ha una gran fono qui bianco probabilmente dovrebbe semplicemente stendere in terza linea qualcosa del genere e fare una base perché non può veramente tagliare questo è un po' mio tipo non so se bianco prova a tagliare così finisce in disastro chiaramente perché bianco non ha abbastanza libertà per fare questa cosa in partita è stato un risultato abbastanza simile bianco ha provato a tagliare in quest'altro modo ma anche questo non è non è il massimo perché non può resistere e bianco non può tagliare se non che dà atari poi non può continuare ma se non può fare con me conmettere così è nero nessun problema e chiaramente si spinge è disastro quindi adesso bianco ha il problema che deve anche pensare avvire e probabilmente il modo migliore qui era semplicemente catturare la pietra fare un po' di mucchi così garantisce due occhi una forma migliore in partita ha provato a fare un po' di più ma questa lascia il cattivo agile per esempio già una cosa che può fare il nero è semplicemente la cosa più semplice sarebbe semplicemente ad adatari il bianco non può veramente salvare questa pietra perché altrimenti atari vediamo chi no che vuol dire che a questa taglia il bianco deve esponere comunque così quindi non si può connettere e questo già sarebbe un ottimo risultato per nero perché vuol dire che il taglio che aveva fatto bianco è diventato una pietra inutile ok però in partita penso ci fosse anche di meglio quindi ho deciso di stendere qua che minaccia comunque di catturare quella pietra bianca il bianco per evitare quello deve fare questa mossa che però è un brutto scambio perché questo solidifica il nero gli fa guadagnare la libertà in più adesso bianco deve connettersi in seconda linea quindi non è un grave risultato non mi cade quindi vediamo qui bianco ha vissuto in qualche modo ma nero si è solidificato il taglio di bianco non fa più paura perché una volta che nero è diventato forte qua anche se il bianco ha tagliato ma non è non è in pericolo cioè sinceramente qua tra i due gruppi è più debole il gruppo bianco che quello nero quindi nero non ho poco ok e questa adesso non è una mossa perché è vero che minaccia il taglio ma in realtà nota che il nero connette qui c'è del cattivo agi nel gruppo bianco e qua purtroppo me ne so accorto dopo ma c'era qualcosa che il nero poteva fare ma non l'ho visto subito quando il bianco giova qua questo poteva essere un errore decisivo della partita ma ho mancato il il gruppo di grazia nero da atari nero da atari bianco connette è riuscito a vedere cosa può fare nero in questo in realtà tesouji l'ho visto era questo e qui bianco non può cattolare questa bianco dovrebbe giocare qui che potrebbe risultato simile a quello in partita perché adesso nero non può continuare perché c'è il taglio quindi qui non dovrebbe connetter e poi bianco può tornare indietro a vivere questo dovrebbe ok in partita bianco ha risposto qui che sembra la stessa cosa ma in realtà è un grave errore e qui nero aveva la possibilità di dargli il colpo di grazia e finirà la partita di maniera tutte riuscite a vedere come perché qui avevo letto una cosa ma avevo letto una cosa sbagliata esatto line bianco deve tagliare ma poi qual è la prossima mosse a uno dice infatti la mosse che stavo leggendo io ma non è la mosse migliore perché sembra funzionare ma non veramente perché dopo questa sequenza vero che bianco non può dare atari ma bianco può giocare qua che minacce di dare atari e nero può tagliare la libertà in modo che bianco non dia atari ma bianco può fare un altro occhio di qua e il risultato finale è che questo è semplicemente sechi perché ok bianco un po' dare atari ma neanche nero e non è il massimo sono fino a gioco se è sechi non è un colpo di grazia quindi ok ho pensato questo è quello che avevo letto è stato ok c'è un sechi non è il caso di farlo adesso in realtà c'era molto di meglio perché dopo il taglio il tesugine ane e vedete a cosa servita b12 a cosa serve il b12 serve che crea esatto la mancanza di libertà che quando dare atari tiene semplicemente connette e bianco non può dare atari il bianco può vivere con questo ma non è importante perché non ne ho cattura la coda e che vuol dire che non ha bisogno più di connettere quindi questa pipa è diventata inutile eccetera eccetera questo sarebbe stato game war e purtroppo non l'ho visto quindi sono tornato indietro a connettere la partita e che vuol dire il bianco ha avuto il modo di difendere quindi una partita è continuata in ogni caso il risultato è un buon risultato per il nero perché la pipa di bianco è diventata gota sostanzialmente e quindi bianco prima aveva l'iniziativa per giocare per il primo al centro invece adesso gioca prima nero e quindi adesso è ancora più evidente che non è più bianco ad attaccare ma è il nero che sta attaccando bianco quindi ok e infatti qui bianco al posto di provare a salvarla con la pietra decide semplicemente di semplificarla ma sono un po' grandi perché dopo questo insultato la partita si semplifica un casino arrivati qui perché all'improvviso nero con quello che sembrava un gruppo debole ci ha fatto 20 punti in più e quindi mentre bianco ancora non ha molti punti su tutto il gubano quindi la partita è comunque abbastanza in discesa per me alla fine nero mi va da qui un po' per cercare di chiudere la partita perché questo è l'unico posto dove il bianco può fare veramente punti ma c'è tanto agi quindi non è possibile catturare questa pietra e in più bianco mi risponde qua che è veramente massimo questa mossa infatti una volta che ha giocato qua non è nemmeno non so sembra anche i cash non è nemmeno più interessante continuare questa parte anche se probabilmente la mossa comunque per dire non continuare qua è semplificata la cosa ma ok non è caldo una piccola differenza questa è comunque grande soprattutto perché altrimenti c'era un po' di cattivaggi con il time quindi qui erano in modalità semplicemente cerchiamo di chiudere la partita togliamo le debolezze che tanto continuo già di più in realtà la mossa più grande sarebbe stata anche una questa questa è enorme perché bianco altrimenti può difendere in center quindi era un reversente questo sì infatti avrei dovuto giocare qua se non ero più molto concentrato ok questo è l'ultimo tentativo il bianco cercare di catturare m3 e fare territorio sull'arca e scala ma c'è tanto di quell'arca qui che sembra abbastanza difficile e quindi qui bianco cerca di circolare probabilmente c'è più di un modo di salvarle con queste piede ho cercato alcune più semplici e qua si bianco taglia nero lo gioco così e non so bianco ovviamente può catturare qualcosa ma nero lo guadagna all'altra parte adesso c'è anche k3 certamente tanto in quell'agi che qualcosa lì non so neanche quella cosa non so che semplicemente non fosse possibile infatti in partita bianco nemmeno ci ho provato semplicemente tagliate qua nero si connette e sostanzialmente e sostanzialmente la partita è finita perché adesso bianco non ha abbastanza punto infatti faccio questa questa è la grande perché altrimenti bianco può saltare b15 e poi questo ultimo tesugi perché minaccio la scala con n4 bianco di 5 metri bianco di 5 metri però comunque probabilmente nero comunque ho dovuto giocare qua perché sembra più grande proteggere questo territorio soprattutto perché anche se bianco scappa di qui c'è ancora un po' di cattivari non c'è ancora tale questo ci sono ancora un po' di buchi nel territorio di bianco quindi ma in ogni caso la verità è che nero altamente avanti che quasi non importano queste cose perché fanno piccola differenza quindi nero cattura di qua bianco cattura di qua ma nero comunque difende abbastanza dal suo territorio da mantenere il vantaggio poi bianco cerca di nonnettersi qui ma c'è un po' di cattivari qua ci ho pensato un po' a bianco e probabilmente sarebbe stato più interessante se avesse giocato il g16 e cercato uno scambio se in generale perché in linea di principio se avete una posizione perdente e vi si offre uno scambio cercate uno scambio perché l'idea è che se le cose restano come stanno avete una posizione perdente con lo scambio magari succede qualcosa e qua infatti c'erano un po' di aghi perché parto con l'anne poi l'anne di qua poteva almeno creare un po' di casino quindi quantomeno avrebbe mandato di nuovo la partita in confusione e c'era più possibilità che facesse un errore magari e invece ha giocato per fortuna la variante semplice ha difeso e così non c'è nessun problema ok e poi arriviamo all'ultima sequenza perché una volta che il nero gioca qua il bianco non può connettersi veramente e il nero cattolo di pietra se lo scelta il bianco non lo può fare ma una volta che il nero ha giocato M2 funziona questa mossa e quindi c'è un'ultima riduzione di fine gioco e questo è l'ultimo errore del bianco questo è un overplay il bianco avrebbe dovuto giocare in basso e così sarebbe stato Minai per salvare queste pietre a connessione da una parte o dall'altra così non ci sarebbe stato problema invece con questa mossa 100 sfuggi per catturare le pietre bianche e stavolta non mi ha mancato il colpo di grazia ok ti suggerisco giocare in L1 e il bianco non ha abbastanza libertà e sembra che anche il nero non abbia abbastanza libertà ma in realtà il bianco non fa in tempo a catturare il pietre perché è arrivato qui questa atari è necessaria altrimenti nero che trovo in G2 e adesso non può ancora tagliare con H4 chiaramente perché nero semplicemente si connette quindi deve prima dare atari ma anche quando nero semplicemente si connette non c'è modo per bianco intagliare perché se il bianco taglia nero semplicemente qui e poi atari e poi è avanti di una libertà ok in partita infatti la posso tagliare è provato a connettersi in più a linea ma comunque non funziona perché quando nero taglia di qua il bianco ha troppe poche libertà per difendersi per esempio si trova qui nero può tagliare sembra non poter tagliare ma anche su G è atari e poi c'è una mancanza di libertà quindi non c'è la modo di salvare con le pietre in realtà lui ha trovato il modo di connettere questa è l'unica mossa con cui il bianco riesce a connettere queste pietre infatti ci riesce a connettere il problema è che poi muore tutto quanto insieme quindi non valeva la pena connettere qui ha bannato qui niente la match è finito 4.0 vedi dice qua posso dire questa no perché quando mi gioco qua poi non posso tagliare perché sono in un'altra tardi di un'altra posso gioco di un'altra e la differenza di prima non funziona così così si così si che è lui quindi deve fare gli occhi quindi non può connettere di un'altra in ogni caso e quindi adesso in classifica siamo se non mi sbaglio terzi no quarti in realtà il prossimo match è a marzo contro la Svezia Svezia che in questo momento è a sorpresa seconda a pari punti con la Germania che sulla carta è molto più forte quindi vedremo quello là abbiamo bisogno di vincere per per avere qualche speranza di promozione quest'anno se dovessimo perdere con la Svezia mi sa che finiremo a metà prossima quindi speriamo bene il match è l'otto marzo quindi ci riprenderemo tra un mese ok e per stasera tutto perfetto alla prossima e buona sera grazie a tutti